spesso si parla di supplementi nutrizionali orali quando è opportuno integrare la dieta con questo tipo di supplementi quali sono i benefici quali sono le caratteristiche allora i supplementi nutrizionali orali che noi comunemente chiamiamo integratori anche un po impropriamente diciamo perché di fatto i supplementi nutrizionali orali sono alimenti a fini medici speciali quindi hanno una composizione definita e sono preziosissimi in terapia nutrizionale di supporto in ambito pediatra che siano degli alimenti a fini medici speciali vuol dire che si possono vendere si possono comprare lato consumatore in farmacia senza ricetta senza prescrizione rientrano in quella categoria lì sì si possono acquistare si dovrebbe fornirli a mio parere al paziente malnutrito da parte del servizio sanitario nazionale ma non sempre ed essere garantiti diciamo anche dai livelli essenziali di assistenza non è sempre così perché appunto dobbiamo ancora lavorare in questo senso perché si capisca il ruolo di questo strumento utile che appunto l'ESGAM per citare un ente autorevole lo definisce come nutrizione enterale per os perché è sempre una nutrizione artificiale semplicemente somministrata per bocca esatto gli integratori possono essere di due tipi possono essere completi quindi contengono tutti i macro e micronutrienti elementi traccia minerali vitamine tutto e questi sono indicati anche ad essere utilizzati come sostitutivi del pasto perché contengono tutto il pregio principale di questo tipo di integratori è quello di in un volume piccolo offrire un apporto calorico elevato per esempio 200 ml o 125 ml per le forme compatte forniscono 300 calorie che è qualcosa di approssimabile ad un pasto esistono poi gli integratori modulari che forniscono uno o due nutrienti soltanto e questi possono essere aggiunti agli alimenti per aumentare l'apporto calorico oppure l'apporto di quei singoli nutrienti di cui dicevamo quando usare gli integratori quando usare i supplementi orali quando i bambini o i pazienti in generale perché non parliamo solo di bambini piccoli non riescono a coprire per intero il loro fabbisogno calorico oppure si affaticano in fretta e non riescono a finire il pasto oppure non riescono a tollerare volumi elevati e quindi devo contenere i volumi da dare oppure sono semplicemente inappetenti e quindi può essere anche utilizzato proprio come forma di terapia. Nel caso dei modulari dicevi vado a reintegrare solo un singolo elemento questo vuol dire che prima devo fare delle analisi devo capire qual è l'elemento che manca o questo lo deve fare lo specialista sono sempre delle dei presidi che devono essere gestiti dallo specialista che va a completare quello che è l'analisi della dieta di quel bambino e su questa base confrontandolo con i fabbisogni sapendo cosa manca vado ad aggiungere una cosa piuttosto che un'altra faccio per dire una maltodestrina ovvero carboidrato un grasso o lipidi come li chiamiamo oppure degli aminoacidi che sono la base delle proteine però bisogna farlo con criterio e non pur di integrare no consigliare qualunque cosa c'è da dire una una particolarità che gli integratori per l'età pediatrica sono specificamente formulati e esistono abbiamo una buona gamma di integratori pediatrici di questi siamo molto grati all'industria perché non non è specifichiamolo Antonella no perché vedo ancora oggi dei genitori che prendono tu hai parlato di aminoacidi prendono formule di aminoacidi per adulti sportivi e li somministrano ai bambini questa cosa è scorretta esiste il corrispondente pediatrico per cui non c'è ragione di fare questo esatto dicevo non è molto lontano il tempo in cui noi non avevamo così tanto così tanta scelta in ambito pediatrico invece adesso ce l'abbiamo ed è importante usare le formulazioni pediatriche perché i fabbisogni del bambino sono fondamentalmente diversi da quelli dell'adulto e quindi non non è giustificato l'utilizzo indiscriminato di integratori dell'adulto nel bambino noi ogni tanto lo facciamo per esempio negli adolescenti che hanno un peso che si può si avvicina di più a quello dell'adulto e io per quel ambito specifico posso agire anche con un integratore dell'adulto ma non indiscriminatamente per l'area pediatrica per i bambini piccoli e anche per quei bambini che pur essendo grandi di età pesano poco non possiamo usare gli integratori dell'adulto e questo è l'arte che noi facciamo e questo che noi facciamo per quello nel vostro caso specifichiamo anche questo nel vostro caso l'età conta come parametro però contatti il peso e l'altezza anche per identificare il tipo ok contano entrambi sì bene senti abbiamo parlato di integratori andiamo a toccare un altro tema che è molto vicino che è quello del potenziamento cognitivo quindi spesso i genitori soprattutto su bambini che hanno avuto lesioni al cervello alla nascita hanno grandissime preoccupazioni a ragion veduta di quello che può essere lo sviluppo cognitivo di questi bambini e quindi spesso si crede che ci siano degli alimenti in grado di potenziare o di aiutare questo tipo di sviluppo e quindi si fa spesso riferimento agli acidi grassi essenziali agli amminoacidi abbiamo detto prima gli omega 3 ci fai tu un po una panoramica su ciò che è vero ciò che è sentito dire che lo possiamo leggere sulla rivista dal parrucchiere ma in realtà non è avvalorato da grandi studi scientifici allora in realtà parlando di micronutrienti perché di quello si tratta io posso fare in realtà un elenco lungo di quelli che diversi studi hanno identificato come carenti nei bambini con neurodisabilità e questi sono dagli acidi grassi essenziali che citavi tu quindi gli omega 3 per esempio gli omega 6 ma anche il ferro anche lo zinco il selenio la vitamina c la vitamina d la vitamina e il fosforo il calcio come mai mancano tutti questi micronutrienti a questi bambini ecco mancano perché l'alimentazione di questi bambini non è spesso sufficiente ok o forse non è variata anche rispetto certo cioè non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi non solo quantitativi e per convincerti ancora di più di quello che sto dicendo queste carenze sono molto meno frequenti nei pazienti che invece assumono nutrizione enterale e miscele enterali perché in quel caso io riesco a dare anche fornite di tutto il fabbisogno anzi forse più complete rispetto a un piano alimentare di una persona però facciamo un passaggio successivo quanto la carenza di ferro quanto la carenza di alcune vitamine che influiscono sullo sviluppo cognitivo quindi era era questo più il sì per concludere quello che stavo dicendo prima in merito a tutti gli oligoelementi la raccomandazione è che almeno una volta all'anno questi vanno dosati per sapere che cosa devo integrare perché si dosano su sangue esame del sangue esame del sangue dove lo sai sì che nessun pediatra ci prescrive il dosaggio di tutte le vitamine c'è scritto nella consensus estrogen che una volta all'anno il dosaggio dei micronutrienti deve essere fatto proprio perché è stato dimostrato dagli studi che possono spesso essere carenze una volta all'anno non ogni mese perché non è necessario però sulla base di questo si possono poi attuare protocolli di supplementazione adeguati ok adesso torniamo allo sviluppo cognitivo e agli acidi grassi allora qui c'è ovviamente una una base di verità gli acidi grassi in generale i poli insaturi i cosiddetti puffa di cui gli omega 3 sono una sottospecie sono effettivamente molto importanti nel sviluppo in generale non soltanto nello sviluppo del tessuto nervoso ma anche le membrane cellulari perché ne garantiscono la stabilità fanno parte delle membrane cellulari e ne garantiscono la stabilità hanno effetti anti infiammatori interferiscono con la salute della retina sono veramente molto molto utili e non per niente vengono chiamati essenziali perché ci devono essere e il motivo per cui si chiamano essenziali è anche un altro e che l'organismo non li può sintetizzare ok perché non può inserire il doppio legame che è contenuto nella catena di questi acidi grassi e quindi li dobbiamo per forza assumere con la dieta ora bisogna fare delle precisazioni quello che tu mi stai chiedendo ovvero quanto ne devo prendere come lo devo prendere purtroppo non è non è noto noi possiamo partire da un dato semplice che è quello che ci dicono i LARN che sono i livelli di assunzione raccomandata dei nutrienti per la popolazione italiana che di questi assistono anche per le diverse fasce di popolazione pediatrica e l'ARN certo certo non patologico non specifico però ovviamente per la popolazione per la popolazione e in questo caso noi sappiamo che dobbiamo assumere circa 250 mg di acido di EPA e di DHA che sono le sigle per due molecole metabolicamente attive della serie omega 3 ok che nel bambino fino ai due anni bisogna aggiungere altri 100 mg di DHA ok acido decaesainoico perché sono appunto fondamentali per la maturazione delle strutture nervose ma nel bambino piccolo sono anche importanti altri altri acidi grassi che sono quelli della serie omega 6 e questo è un discorso molto delicato nel senso che qui siamo nell'ambito della farmaconutrizione perché quando parliamo di un effetto farmacologico di una sostanza che invece è un nutriente allora parliamo di farmaconutrizione quindi bisogna usare gli stessi criteri che si usano per i farmaci e non si possono prendere a buon senso ma bisogna prenderli con criterio quali sono le cose che io posso diciamo sottolineare e mettervi in guardia primo tra tutti quello che non sappiamo definire e se dobbiamo somministrare o supplementare queste formule queste molecole metabolicamente attive come l'EPA e il DHA oppure i loro precursori perché i precursori hanno la capacità di essere poi processati dall'organismo per creare le molecole metabolicamente attive all'occorrenza dell'organismo e quali sono i precursori? e l'acido linoleico quello della serie omega 3 e l'acido linoleico per la serie omega 6 ok allora se invece io somministro già la molecola attiva obbligo in qualche modo l'organismo a gestire questa molecola metabolicamente attiva che se è diciamo così ben piazzata fa il suo ruolo quello che però potrebbe succedere di non buono è che prima si altera l'equilibrio tra omega 3 e omega 6 se io somministro omega 3 in modo massiccio senza sapere che cosa succede con gli omega 6 allora questa parte rimarrà penalizzata e nel bambino molto piccolo la presenza di omega 6 i livelli corretti di omega 6 sono correlati con la crescita e con lo sviluppo ok non sono solo gli omega 3 ad essere importanti l'altra cosa è che sono queste molecole pur molto utili molto ossidabili quindi se io non ho sufficienti livelli di antiossidanti ovvero vitamina A, vitamina E, vitamina C, selenio, rame, zinco che sono tutti coenzimi della catena antiossidativa vuol dire che posso creare dei radicali liberi dell'ossigeno ossidando questi stessi acidi grassi che sono molto fragili molto ossidabili e poi creare dei danni tessutali quindi pur riconoscendo che hanno un ruolo pur riconoscendo che in quei casi in cui sappiamo che l'alimentazione particolarmente carente possiamo fare o per dei periodi di stress particolare possiamo ben fare delle supplementazioni non possiamo dire di assumere indiscriminatamente per sempre una supplementazione con x milligrammi di omega 3 perché questo non si deve fare chiarissimo Antonella nel senso che c'è stata molto chiara nella spiegazione ci hai gettato nel dubbio e nell'ansia invece di chi però non ha un'altra soluzione nel senso che poi mancando altre informazioni ecco se uno diciamo ha modo di ragionare sulle cose e ha chiarezza poi può fare anche delle scelte corrette questo è la base per contro posso dire che invece è fondamentale assumere della vitamina D da 800 a 1000 unità al giorno almeno nei mesi invernali sempre quindi questa è raccomandata a prescindere dal e non lo facciamo raramente viene fatta nonostante sia raccomandata e sia di indubbia utilità sia per la salute dell'osso sia per gli effetti antinfiammatori gli effetti sulla crescita perché noi sappiamo che la vitamina D rappresenta un vero e proprio ormone più che una vitamina ok? quindi gestiamo bene con criterio tutto quello che sappiamo sì ecco forse mi viene da dire gestiamolo insieme ad un professionista che ci aiuti su questo perché abbiamo capito quanto è importante la misurazione il capire qual è il livello, qual è lo stato attuale su cui intervenire perché altrimenti non sono così innocue e forse queste supplementazioni possono dare origine a degli squilibri che non vogliamo che non riceviamo esattamente quindi se sappiamo di avere delle particolari carenze queste vanno corrette il di più non è sempre meglio ok chiaro questo volevo dire senti abbiamo parlato tanto di questo tema quindi io non mi soffermerei su altri aspetti ma andrei direttamente a meno che appunto tu non voglia integrare con qualcosa sull'alimentazione no avevi citato gli aminoacidi in precedenza se vuoi dico anche che non mi sento di fare una raccomandazione su integrare la dieta dei bambini con patologie neurologiche con degli aminoacidi perché nella stragrande maggioranza dei casi la dieta di questi bambini è molto ricca di proteine ok cosa gli diamo fondamentalmente? gli diamo i secondi gli diamo i formaggi gli diamo il latte gli diamo la carne gli diamo gli affettati gli diamo lo yogurt no? ecco diamo molto meno la pasta il riso il pane molto meno perché riusciamo a darli a darli meno quindi dare un sovraccarico di proteine non serve a niente anzi è un impegno per l'organismo perché la fonte azotata è tossica per l'organismo e va gestita va gestita con delle calorie che utilizza per fare fuori per eliminare la fonte azotata ok? quindi quando le proteine sono molto abbondanti nella dieta noi spendiamo parte delle calorie o che mangiamo o che abbiamo di deposito per gestire questa fonte azotata che è un po' il principio delle diete iperproteiche per dimagrire però ecco in questi bambini eviterei questo sovraccarico questa spesa energetica eviterei come un consiglio che va bene a tutti certo se uno ha una carenza proteica perché per vari motivi non riesce ad assumerli e questo è documentato da un'anamnesi alimentare che ha fatto la dietista eccetera allora certo sì ma non in modo indiscriminato poi se vogliamo dire quello che vale un po' anche per lo sportivo per esempio l'utilizzo degli aminoacidi ramificati per dire eccetera anche questo può essere fatto per periodi molto ristretti a cosa servono questi aminoacidi ramificati? i ramificati hanno un tropismo muscolare cioè hanno una preferenza per il muscolo quindi fanno sviluppare i muscoli? fanno sviluppare i muscoli diciamo così però devono essere in misura diciamo molto ben dosata sartoriale rispetto agli aminoacidi totali possono essere utilizzati solo per periodi limitati nello sportivo sono consigliati per migliorare le performance quindi performance poi basta non costantemente e devono essere associati ad un allenamento nello sportivo nel nostro caso con magari la riabilitazione eccetera quindi devono essere anche qui siamo nell'ambito della farmaco nutrizione devono essere consigliati nell'ambito nel contesto globale del paziente cioè di tutto quello che fa di tutto quello che mangia e di tutto quello che è la sua terapia e c'è detto anche un'altra informazione che questo tipo di supplementazione è piuttosto può procedere a cicli ma non è continuativa non è perché magari il bambino non mi mangia la frutta e la verdura allora io tutto l'anno gli do vitamine quindi l'altro messaggio è anche questo di curare in funzione dell'esigenza limitata a quel periodo a quel momento esatto lo dico per ultimo perché poteva sembrare molto diciamo semplificativo quello di dire che il migliore modello di alimentazione è l'alimentazione varia l'alimentazione è la dieta mediterranea l'alimentazione in cui si mangia un po' di tutto proprio perché nessuno è più bravo della natura a fare l'equilibrio a fare l'omeostasi quello che è il meglio della nutrizione o dell'alimentazione noi ci proviamo però imitiamo sempre la natura quindi se uno riesce a mangiare di tutto nella misura in cui riesce a farlo però ovviamente almeno tenerlo a mente questo è sicuramente il migliore ti devo fare un'ultima domanda prima di avviarci ai temi della disfagia e in generale della nutrizione interale ti sono capitati già forse negli ultimi periodi anche bambini da famiglie che hanno deciso di procedere per un'alimentazione vegetariana o vegana e in questo caso appunto quali sono le raccomandazioni su disabilità neurologica supplementazione alimentare malnutrizione se c'è giusto qualche nota che puoi dirci ma allora sono due capitoli un po' diversi ovvero la dieta vegetariana almeno con la cosiddetta lacto ovo quindi con assunzione eliminazione della carne ma con assunzione di latte e uova e questo è diciamo abbastanza facilmente gestibile bisogna integrare la vitamina B12 bisogna integrare un po' di ferro però si può fare il resto direi è molto difficile da gestire anche nel bambino normale nel bambino sano non affetto da patologia nel bambino neurodisabile diventa veramente veramente complicato perché utilizzare i legumi per fornire la fonte proteica vuol dire avere tantissime fibre vuol dire avere volumi molto molto elevati perché le proteine vegetali hanno una valenza inferiore un valore biologico noi diciamo inferiore rispetto a quelle animali quindi bisogna mangiare molto di più un 30% in più e noi qui siamo nell'ambito in cui non riusciamo a solitamente a soddisfare i fabbisogni anche contenuti per cui ci sono capitate queste casistiche o non è frequente ma no sinceramente non è così frequente no no